Nicola Scottignoli, titolare Cervio 1 Mi sono affiato da poco tempo seguendo i miei sogni imprenditoriali Ho deciso di affigliarmi da Fittapresto perché prima di aprire l'attività a Cervia lavoravo a Faenza, nell'enzio operario di Faenza e grazie appunto a Elisabetta sono entrato nella grande famiglia di Fittapresto e mi sono sentito subito a casa e quindi da lì ho iniziato a pensare a un mio futuro da imprenditore No, prima di diventare affiliato come unico lavoro facevo il calciatore e poi dopo ho intrapreso un'altra strada nell'immobiliare e adesso mi divido tra scarpini da calcio e giacca e cravatta Sì, non ne ho che ero soddisfatto della vita professionale, però dentro di me cresceva sempre di più la voglia di farlo imprenditore Il maggiore elemento di insoddisfazione era la paura di non riuscire a vedere un futuro dopo il calcio Il confine di teore che ho dovuto superare è stata la paura di fare il passo, però la grande voglia di diventare imprenditore mi ha fatto prendere subito la scelta Affiliandomi ad Affittapresto ho visto un'opportunità di legare il lavoro alla mia passione per l'economia e di essere imprenditore e poter costruire passo dopo passo il mio futuro Il mio storico è dovuto superare sono stati molti, soprattutto derivanti dalla pianificazione di ciò che si deve fare prima dell'apertura ma grazie ad Affittapresto che mi hanno aiutato dandomi spunti su come ottimizzare il tempo e come impiegare il lavoro è stato tutto più semplice dopo Mi ha spinto a cambiare la voglia di essere imprenditore e di costruire il mio futuro passo giorno dopo giorno Ho cambiato da poco ma la mia vita adesso è una nuova luce e sono pronto a portare la mia azienda al top Affittapresto ha diversi punti di forza i più importanti a mio avviso sono la pianificazione aziendale, il metodo e il continuo sviluppo Sì consiglierei Affittapresto a chi vuole intraprendere questa strada perché ti danno la possibilità di avverare i tuoi sogni e ti danno la possibilità di creare la tua azienda e il tuo futuro Io sono un imprenditore ora e tutto questo lo devo ad Affittapresto quindi chi ha voglia e chi ha la mia passione e la voglia di fare le strade sono aperte e basta volerlo